Dopo la morte del turista francese disperso nel Cilento e boom di download di una app saldavita gratuita che consente di geolocalizzare e di inviare la posizione al numero unico 112. Maria Grandis. Uno shock emorragico dovuto alla rottura dell'arteria femorale. È morto così Simon Gautier. A confermarlo l'autopsia è eseguita nell'ospedale di Sapri, in provincia di Salerno. Fratture a entrambe le gambe. Dopo la caduta durante l'escursione in Cilento, lo studente francese sarebbe rimasto in vita a 45 minuti al massimo. Se potete aiutare, sono caduto, mi sono romputo le due gambe. Era il 9 agosto, il ragazzo aveva telefonato ai soccorsi, ma la sua posizione non era stata rilevata ed è stato ritrovato dieci giorni dopo. In Italia le centrali operative 118 sono ancora prive del sistema di geolocalizzazione delle chiamate. Servizio che invece prevede l'app Where Are You, applicazione del numero unico europeo 112, gestita dall'Agenzia di Emergenza Urgenza, ora record di registrazioni. Più di 12.000 lunedì, giorno in cui il turista è stato rintracciato. Quasi 19.000 ieri, oltre 11.500 fino alle 16 di oggi. L'app consente di effettuare una chiamata in numeri di emergenza e contemporaneamente trasmette la posizione di latitudine e longitudine che viene rilevata dal dispositivo telefonico. Quella è l'emergenza? A Milano le telefonate arrivano qui, alla centrale operativa dell'112. Il numero unico per l'emergenza è per ore attivo solo in alcune regioni, ad esempio Lombardia, Lazio e Sicilia. Il numero unico emergenza? Grazie.